Adesso, adesso portiamo la vena. Mamma mia, adesso viene malito. Portalo di là già, così non ci amalgamano un po' di roba. Ma quando ne lo mettete fuori? No, non ci amalgamano un po' di roba. No, non ci amalgamano un po' di roba. No, non ci amalgamano un po' di roba. Ok. Adesso vendiamo il metro. No, non ci amalgamano. No, non ci amalgamano un po' di roba. Ok. Vai. Ancora due. Tanta e c'hai. Perfetto. 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 Ok. Perfetto. 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 Grazie a tutti.